L'altra notte, mia moglie mi ha abbracciato, eravamo a letto, era commossa, mi stava raccontando di quel bambino che è stato abbandonato alla Mangiagala di Milano qualche giorno fa. Allora io mi sono girato, l'ho abbracciata, cercavo le parole e non le ho trovate. Eppure avrei dovuto trovarle perché io sono stato abbandonato da mia madre. Avevo 13 anni, era il 1973. Torno a casa un pomeriggio e in cucina, sul tavolo di formica rossa di una cucina stile anni 60, trovo una bottiglia di vetro in mille lire che sarebbero diventate la cena a base di caffè e latte per me e i miei fratelli. E un bigliettino con delle scarne parole, ma molto pesanti. Praticamente mi scaricava la responsabilità addosso dell'educazione dei miei fratelli. Io non posso vivere in quell'inferno, lei diceva, proprio quelle parole. Sei anni dopo, nel 1979, la rincontro per la prima volta dopo l'abbandono. Era una domenica di primavera, assolata, un giorno che non dimenticherò mai. Io ho cercato di essere il più in ordine possibile, il più pulito, il più pettinato. Passo una giornata bellissima, la guardavo, era più bella di come me la ricordavo, era più bella di quelle fotografie che tenevo sotto il cuscino. L'unica cosa è che la vedevo più piccola, senza rendermi conto che io ero cresciuto. Quando la prego di tornare a casa, lei mi dice, io in quell'inferno non ci torno. E sei andata. Noi in quell'inferno ci vivevamo. Dovevamo fare le cose più semplici, cucinare e poi rassettare, lavare i panni e poi stenderli. Dovevamo vivere. Perché mio padre pensava solo a lavorare e ad annegare il suo dolore dentro i bottiglioni di vino. Dove arrivava al fondo di questo verde smeraldo per cercare una soluzione. E invece trovava solo odio e rancore per quell'abbandono che riversava su di noi. I miei fratelli erano più piccoli di me. Io avevo 13 anni, Marco ne aveva 11 e i gemellini, Sandro e Loredana ne avevano 8. Però papà non era cattivo, assolutamente. Non ci ha mai picchiato, però non ci ha mai dato neppure una carezza e neppure un sorriso. Lui aveva delle regole, delle regole ben precise. A me diceva, quando fai una cosa, falla al massimo delle tue possibilità. Sempre bene, qualunque cosa essa sia. Poi ha cominciato a dirmi, stai diventando grande, attento alle ragazze, devi avere rispetto. Guarda che se poi le metti incinta, ero terrorizzato. Il primo bacio me lo hanno dato che avevo già 18 anni. E allora ho cominciato subito a lavorare, già a 13 anni. Ho cominciato lavando i piatti, poi in un'impresa di pulizia, andavo a pulire le scuole, gli uffici, poi ho fatto il carrossiere, il battilama, il verniciatore, poi ho fatto il venditore di acqua minerale, il venditore di marmi e granite, ho lavorato in una fabbrica, insomma ho fatto tutto quello che potevo fare. E tutti questi mestieri mi sono serviti per arrivare a pensare che un giorno tutti questi mestieri mi sarebbero stati utili per l'occasione. Perché tutti nella vita abbiamo un'occasione. Io non credo nella fortuna, per niente. Credo che c'è il momento in cui il talento incontra l'occasione. E noi tutti abbiamo un talento. Tutti quanti. Un pomeriggio esco dalla vasca da bagno e sono davanti a questo specchio bagnato fradicio e grido «Mamma mi prendi l'asciugamano?» Ma non è venuto nessuno, perché mia madre non c'era, se n'era andata via. Allora, guardandomi dritto negli occhi, ho capito che io dovevo arrangiarmi da solo. Che dovevo dare retta a me stesso. Perché noi tutti, quando ci guardiamo allo specchio, la verità la sappiamo. Possiamo mentire con chiunque, ma noi la sappiamo. Io questa cosa qui la chiamo vocina. E la mia vocina mi chiede di fare delle cose che spesso sono esattamente il contrario di quello che mi dice il mondo che mi sta intorno. E quindi è difficile dargli retta. Nel 1984 mio padre muore di cancro. E secondo me anche di quel mal di vivere che gli si era appiccicato addosso quando mamma se n'è andata. Aveva 51 anni, è morto molto giovane. E io, dopo il funerale, torno in quella cucina, sul tavolo di Formica Rossa, questa volta c'è il suo bottiglione di vino. E lo bevo per capire che cosa aveva quel vino più di me, più di noi, più della nostra vita. Poi apro un cassetto dove lui accumulava le sue cianfrusaglie e trovo un giornale che racconta di quel 1982, io avevo 22 anni, dove avevo vinto il talentiere. Una fotografia mi ritraeva con Teddy Reno, Rita Pavone e la mia band. Avevo vinto. E lui andava in giro con questo giornale. Era orgoglioso di me, ma non l'aveva mai detto a me. Non me l'aveva mai detto. A quel punto decido di andare via dalla Liguria. Quella terra mi aveva fatto solo male. E per i sei anni successivi incontro nuove persone, nuovi dialetti, faccio nuovi lavori. Mi sposo per la prima volta e trovo una famiglia. Trovo un equilibrio. Passa il tempo e quella cucina si rifà viva. Mi dice, ma scusa, ma non raccontiamo più niente, non facciamo niente. E io non gli davo retta perché stavo bene, avevo trovato un equilibrio, avevo trovato una famiglia. E quindi continuavo a vendere i marmi e i graniti dell'azienda di mio suocero. Poi un giorno, un mio amico viene a casa e mi porta un oggetto magico. Una telecamera per comuni mortali. Io ci metto l'occhio dentro il mirino e perdo completamente la testa. Scopro un mondo tutto nuovo, tutto da scoprire, che mi appassiona. E comincio a studiare tutto ciò che è quello che vive intorno al mondo della ripresa, dell'immagine. Mia moglie pensa che io sia pazzo, mi lascia. E io lascio la famiglia, quella nuova famiglia che avevo trovato, e me ne torno in Liguria. E lì ricomincio da capo. Lavoro i saltuari, cerco di studiare continuamente, compatibilmente con la sopravvivenza, che cosa dovevo fare. Lavoro con due studi, uno era con Renzo Melis a Genova, e Renzo faceva servizi per il telegiornale. E un altro in Toscana, con Giacomo De Simone, il re dei videoclip. Io, all'interno di quegli studi, venivo chiamato il vecchio. Avevo 32 anni. E gli operatori avevano 19, io ero il vecchio. Facevo una vita veramente difficile. Stenti, perché guadagnavo 250 mila lire al mese, e ne spendevo 450 mila il primo giorno per l'affitto. Quindi stavo sotto della metà ancora prima di cominciare. In quel periodo montavo camminetti per un'azienda di Perugia. Il titolare un giorno mi chiama e mi dice Duccio, senti, se tu la smetti di saltare i giorni di lavoro per andare a fare il videomaker e vieni a lavorare per me, io ti assumo e ti metto in regola, e ti do uno stipendio. Io ero veramente sfinito, stanco. E quella cosa mi ha cominciato a girare nella testa. Quasi quasi non ascolto più la mia vocina. Quali racconti. Finalmente ti puoi risistemare. Torno a casa con questo pensiero nella testa. Taglio i piombi del contatore elettrico, perché erano passati i signori dell'energia elettrica, avevano piombato perché non avevo pagato la corrente, ma il telefono lo pagavo sempre. Torno a casa, mi faccio due uova al volo e avevo questa voce che mi diceva stipendio fisso. Squilla il telefono. Rispondo. Dall'altro capo mi risponde un signore che dice buonasera, sono Andrea Papalia dalla Sony Music Entertainment. Cercavo il regista Duccio Forzano. L'ho mandato a quel paese e ho sbottuto giù il telefono. Il regista a me non me l'aveva mai detto nessuno. Poi dico, ma e se era vero? E se questo cercava veramente me? Allora non è che c'era il repito, l'ultima chiamata, non c'era niente, c'era un telefono grigio con una rotella. Andrea Papalia richiama. Non mi sbatta il telefono in faccia. Io sto cercando il regista Duccio Forzano e io a quel punto non faccio finta di niente e dico, mi dica? Devo fare un videoclip per Claudio Baglioni e volevo sapere se lei è disponibile. Insomma, devo montare qualche caminetto ma il tempo lo trovo. E poi, non abbiamo molti soldi e a me lo viene a dire che non c'è molti soldi questo. E poi dico, guardi, signor Andrea, mi dica quanti soldi ha? Ho 17 milioni di lire. Ma io per 17 milioni vi faccio Benur, non vi faccio un videoclip. Adesso voi vi domanderete come è possibile che Claudio Baglioni va a cercare un anonimo montatore di caminetti in Liguria. Io per Giacomo Di Simone, quel signore toscano, il re dei videoclip, avevo lavorato in un set dove avevamo girato un video di E con Paola Massari. Paola Massari, prima moglie di Claudio Baglioni. Quando Claudio cercava il regista per il suo nuovo videoclip, Paola gli ha detto, guarda, che c'è questo ragazzetto di Genova che si dà molto da fare, grande passione, io ti suggerisco di prendere lui. E lui disse, andatemi a prendere Duccio Forzano. Ed ecco lì che Andrea è arrivato. Io lì ho capito, nel 1995, avevo 35 anni, che tutti gli ostacoli che avevo affrontato fino a quel momento erano il motore per arrivare in quel preciso istante. E a 35 anni ho girato il mio primo videoclip, Bolero, per Claudio Baglioni. E subito dopo sarebbero arrivati i pallasport e subito dopo sarebbe arrivata la televisione. Ma questa è un'altra storia. 3, 2, 1... Vai con la grafica! Attenzione, il corseggio per la musica! Attenzione per la grafica! Attenzione per la grafica! 10 secondi! Attenzione per il maestro! Questa è la nostra, eh! Non è per il maestro! Vai con la grafica! Musica! 1, dentro! 3, dentro! 6, dentro! 4, dentro! 2, dentro! 1, dentro! 3, dentro! 6, dentro! 4, dentro! 2, dentro! 9, dentro! Senti, segui, segui, basta, basta, 4, dentro, 1, dentro, 4, dentro, 6 e 2, dentro, 2, dentro, 4, dentro, 3 e 2, 3, dentro, 2, dentro, 4, dentro. Grazie. 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 Grazie.